Con il 62,34% dei voti al secondo turno, i cittadini di Chiaveri hanno scelto Federico Messuti come nuovo sindaco. Si ferma al 37,66% la rincorsa dello sfidante al ballottaggio Mirco Bettoli. Un dato su tutti, la scarsa affluenza alle urne. Nella giornata di domenica ha votato infatti appena il 34% degli aventi diritto. Solo un elettore su tre di fatto si è recato ai seggi, poco meno di 9.000 persone, sulle oltre 25.000 dell'intero corpo elettorale. Gli altri hanno scelto il partito del non voto. Nella sua elezione Messuti ha potuto contare sul tesoretto di preferenze raccolte già al primo turno, perdendo però qualcosa per strada. Se al primo turno i voti totali erano stati per lui 5.813, al ballottaggio sono stati 5.363, un calo di quasi 500. Ha fatto meglio da questo punto di vista lo sfidante che è riuscito molto probabilmente ad intercettare parte delle preferenze andate al primo turno agli altri candidati a sindaco. Bettoni infatti è passato dai 2018 voti di due settimane fa ai 3.240 del ballottaggio, oltre 1.200 in più che però non sono bastati a ribaltare il pronostico della vigilia. In queste ore è al lavoro la commissione elettorale per validare l'esito del voto e stabilire la reale composizione di quello che sarà il nuovo consiglio comunale. Alla luce delle percentuali del primo turno si possono però ipotizzare i primi nomi di coloro che andranno a sedere nell'aula di Palazzo Bianco. 6 i componenti dell'opposizione, 10 più il sindaco i consiglieri su cui potrà contare la maggioranza. Oltre a Messuti ci saranno 8 consiglieri della lista Avanti Chiavari. Secondo l'ordine dei più votati e alla luce delle rinunce dei consiglieri diventati assessori Paolo Garibaldi, Gianluca Ratto e Michela Canepa, vedova di Marco di Capo e con 766 preferenze la più votata in assoluto in questa tornata elettorale, gli 8 sono Antonio Segalerba, Claudia Brignole, Massimo Sanguinetti, Andrea Dagnino, Pietro della Casa, Ilaria Solari, Luca Ginocchio e Alice Galli. Conferme e volti nuovi. A completare la squadra della maggioranza un consigliere della lista maestrale, il più votato è stato Emanuele Sanguinetti e di partecipativa con la vice sindaco uscente Silvia Stanic che diventata assessore fa entrare in consiglio Alessandro Monti. 6 invece i membri della minoranza. Insieme a Mirko Bettoli ci sarà il consigliere Antonio Bertani, insieme a Giovanni Giardini, Nicola Orecchia, consiglia Garibaldi, Alessandro Calcagno.